Allora, oggi spieghiamo il legno. Il legno è un materiale naturale. Il legno viene da rami e tronchi degli alberi. Infatti, prima gli alberi vengono abbattuti e dopo tagliati in tronchi più piccoli. Vengono trasportati dalla foresta alla segheria. I tronchi possono essere trasportati in diversi modi, come trasportati su strada, quindi con il camion, possono essere trasportati su acqua, lungo i fiumi, o possono essere trasportati lungo le teleferiche, delle sorte di funivie. Una volta giunti in segheria, i tronchi vengono tagliati in tavole e successivamente lavorati.